Bella canottari, bentornati qui Yoshi, oggi siamo qui per raccontare un pochettino quello che hanno combinato quelli di IEI dopo l'ultima patch Che cosa è successo? Non so se avete visto in giro tutte quelle persone che si erano messe da parte, 100 milioni di pacchi non scambiabili Più altri crediti, che cosa era successo? Praticamente se andavate a fare un account nuovo post patch Ok, account nuovo post patch, potevate riscattare gli obiettivi all'infinito, uscendo e rientrando Questa cosa è stata patchata, ok? L'hanno patchata questa mattina Il problema è che è stata fatta tipo per un qualcosa come durata 48 ore circa Veramente tanto tempo, cioè io ho fatto un account, ce l'avevo così, tanto per vedere in stream effettivamente come funzionasse Se funzionasse e se pesse creare dei problemi Perché ho visto poi gente che sta andata a vendere 8, 10, 15, 30 milioni di crediti Andando a fare un macello sul mercato, non so se avete questa roba rimane qui O bannano l'account o rimane comunque morta e ammazzata, tanto per vedere effettivamente il funzionamento Il funzionamento del bug Ok? E effettivamente tu giocavi una partita di battle Ti sbloccate gli obiettivi Riscattavi l'obiettivo Uno dei tanti Uscivi, rientravi da altri obiettivi Riscattavi nuovamente l'obiettivo Funzionava anche da web app Quindi per assurdo c'è chi diceva tanto, parla tanto del ban della console Ban della console il cazzo, perché lo facevi una volta Ti connettevi una volta, uscivi dalla console E poi uscì Poi al momento hanno solo coinwipato gli account Ma non hanno fatto niente di più I crediti, regà, erano una cazzata da bustasse Perché praticamente Ci sta la parte maestria del mercato con 1500, 1500, 1500, 1500 Cioè ogni volta che tu refreshavi in 30 secondi Ti portavi a casa 7500 crediti Che sono veramente una valanga E ti ripeto, c'è chi in due ore si è fatto 2, 3, 4, 5, 6 milioni Ma io so dell'idea che l'ha fatto talmente tanta gente E hanno immesso talmente tanti crediti Cioè ad esempio una di quelle carte che veniva utilizzata spesso per passarsi i crediti Era la Care Nike La Care Nike ieri stava a un milione e mezzo Ho visto delle cose assurde E ho visto il fenomeno che ha preso 700.000 crediti L'AM 200.000 crediti Si sono rialzate tutte le carte ovviamente E per i dosi secondo me Sarà un problema Ovviamente poi non hanno detto niente a nessuno Non hanno fatto assolutamente nulla Ma questa forse è la cosa più grave Che sono mai riuscita a combinare nella storia di Ultimate Team Perché? Perché hai messo secondo me almeno un miliardo Ma anche di più di crediti Dal nulla Buttati così Tra gente che se li ha comprati Chi li ha venduti Chi si è comprato carte Anzi che sei riuscito a tappare prima dei toti Però qui dove li prendi E almeno disabilita il riscatto degli obiettivi O fa qualche altra roba E invece non gliene ha fregato niente Ma per non parlare del negozio Quanta roba Mi faccio vedere una cazzata E ho continuato a fare per vedere se lo facciassero Ok? Tanto non è che mi interessa particolarmente Cioè non c'è dove fare niente con questo account E semplicemente era per farlo vedere in stream Ma soprattutto per far vedere qual era il pericolo Già il gioco sta a pezzi Cioè io c'ho quanti pacchi? 725 Infatti poi la sera non ci sono neanche stato Ci sarà gente che si è fatta veramente Boh tra pick e pack 10.000, 20.000 Il problema poi qual è? Che a me non mi hanno tolto niente Cioè su questo account Che non ha esagerato Cioè sono tanti Però non hanno Non ci ho fatto una cifra esorbitante Di pacchi e di crediti Ma hanno lasciato tutto E sono tutti 281 Ma io poi in realtà Ho detto fammi vedere una cosa I 250 gol Funzionava I 250 gol Tu fai 250 gol Ti danno il 100k E quindi c'è i 100k infiniti Non scambiabili Cioè questi sono 725 pacchi Cioè Hai capito qual è il senso? Hanno fatto veramente un macello E c'è un account Io mi aspetto De vedere Che mi arrivi la mail Che mi dica Guarda Abbiamo silurato l'account Arrivederci e grazie Ho visto tante persone Che hanno fatto coin wipeado Invece qui non hanno fatto niente Ho visto gente addirittura su Twitter Aveva fatto questa sfida qui Che è quella dei 150 aggiornamenti Perché il bug c'è da ieri No dall'altro ieri Quando è uscita la patch di mattina Funzionava E ha funzionato fino a questa mattina Quindi Ha funzionato quasi per 48 ore Che sono veramente tante Per una roba del genere Cioè se tu ci pensi Sono veramente tante E praticamente Si poteva fare All'infinito Che era su stagionale Su traguardi No Su live Era questo qua Praticamente Potevi riscattare all'infinito Tutto Ti facevi 150 giorni Ti avevi 10, 80, 3 infiniti Poi al di là che sono Non scambiabili Rimangono lì Però Pensa a tutti gli stronzi Che se stanno a tenere i pacchi Da 2, 3, 4 mesi E Magari pure da qualche giorno Per poi ritrovarse gente Che troverà Si innuglie e levano i pacchi Tutti i toti Probabilmente Se spami 10, 83 Ce ne sono tipo 10.000 Spami tutti Spami di tutto e di più E poi ti ripeto Il problema più grosso Secondo me è stato questo Perché sei riuscito A creare una situazione In cui Effettivamente Cazzo Hai buttato dentro Un miardo Dei crediti Così A buffo Fatta E effettivamente Dele carte Perché se tu vai su Trasferimenti Questo secondo me È niente Rispetto a quel pacco Se vi ricordate Quello momenti Quello momenti Quello Icone Dello shop Che era dell'anno scorso O di due anni fa Quello Che fece Crashà malissimo Il mercato Dove C'era ginola A 200.000 crediti L'uso A 100.000 Di Natale a 50 E così via C'è questo Che stava Sotto Questo si trovava Sotto I 6 Ok Perché ovviamente Tu dici Mi busto tutti E dici Ne voglio provare un giocatore Kimme Pio Scontato Neanche Dillo Ronaldo Il fenomeno Giustamente E infatti è andata così Ma come lui Tante altre carte Che sono andate Se vedi Tipi popular Pure su Foodbin Hanno preso Un bel prezzo Anzi Ne ha preso altri 50.000 Ma tutti Se so Hanno preso Una bella botta Perché inevitabilmente Se tu metti Tanti 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 Crediti Ma non metti Tante tante carte Gente disposta A spendere E più E due conseguenze Il prezzo Bravi La paura grossa Adesso è che Essendo successo Finetoti Il danno è stato fatto Perché i crediti La buttai dentro Anche perché La gente ieri Li vendeva A dei prezzi Stracciati Cioè ho visto La gente Veramente che piava Vendeva 10 milioni Ma veramente A cifre allucinanti Rispetto ai prezzi De altri I prezzi normali Dei crediti Cosa Per cui Te bannano E bla 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 Però poi se non Te pizzicano I crediti Li hai dati E la gente Se li ha comprati E li utilizza Cosa che è successo E ieri Li tiravano Quindi un sacco Di gente Li ha presi E ti preoccupa Che avranno forse Forse bannato Quello che ha fatto Che le ha generati Con sto glitch Dell'account nuovo Ma sicuramente Quello che poi in realtà Se le ha presi Ne avranno fatto Un cazzo E quindi Io ho paura Del prezzo dei toti Perché Perché i toti Che tutti li vorranno E tutti li vorranno Provare O alzano il drop Delle carte Se ne troveranno Di più A livello di carte Scambiabili Allora ti dico Se trovano più carte Bene così Apposto a riederci Grazie Ma io non credo Proprio Perché come era successo Quando se vi ricordate La cosa Delle icone Degli eroi Nei pacchi Lì avevano creato Una situazione In cui poi A una certa È passato il bot Con l'aspiravolvere Si è ciucciato dietro Si è ciucciato via Tutte le carte A basso prezzo E più o meno Hanno ristabilito Hanno fatto crashare il mercato Ma comunque Hanno cercato di riportare Qui che cazzo fai Veramente aprono i rubinetti Sui pacchi Io non ci credo Manco se lo vedo Quindi ritroveremo Una situazione Veramente del cazzo Secondo me i toti I toti che costeranno Già un 10 20 30% Rispetto al prezzo Che ci dovevano avere Inizialmente Che era tanto alto Viste anche le carte Che devono uscire Con il doppio playstyle Quindi sulle prime carte Con il doppio playstyle Stats della madonna E tante altre cose Poi Comunicazioni Come al solito Zero Il loro gioco è perfetto Funziona tutto È stata una cosa Abbastanza ridicola Ma soprattutto Perché non è che Dici dura 1, 2, 3, 5 ore Durata quasi due giorni In tempo di due giorni La gente poi Sta avvenenata Non vede l'ora De farlo sprofondare Definitivamente Questo gioco O comunque De alzacce Due crediti Sincero Cioè La cosa è De alzacce Almeno due crediti Perché Sai Almeno dici Ti hai almeno due soldi Tramiti i crediti Almeno riprendo Quello che ho buttato Tra chi shoppa Chi se compra gioco Da qua e da là Io vado a torto E manco troppo Calcolando che Poi da apri 40 euro Di pacco Do shop Non scambiabile E come al solito Voi più in culo Cari in corsa Quindi poi Alla fine Stiamo sempre lì Però questo Regà Io come Questo È veramente Una roba assurda Che mi fa pensare Quasi pure Che l'abbiano fatto O apposta O hanno veramente Cacciato Ehm Non lo so Che hanno combinato Come ieri Come se riescono A fare bug Nuovi Su i menu Più che altro E in più Era un bug Che funzionava Anche da web app Cioè sono riusciti A creare Una cosa Assurda Che tutti Si sono messi là Non gioco Tutto il pomeriggio Si sono fatti i pacchi Tutti il pomeriggio E crediti Proprio Sì dai Passiamo un pomeriggio così Poi al momento Ban console Visto nessuno Ban account Ho visto un po' Di coin wipe Però non ho visto Nient'altro Ma aspetto Qualche altro wipe Su altri account E qualche ban Su gli account Che l'hanno fatto Però niente di più Anche perché sicuramente L'ha fatto un sacco di gente Di un sacco di console Dove giocano Effettivamente Quindi Si l'urale console Potrebbe essere Una giocata Non troppo intelligente Perché rimangono Con tre persone A giocare a sta roba Detto ciò ragazzi Io ho fatto vedere Un pochettino Poi l'hanno facciata Quindi non è che Se c'è provata è inutile C'è riprovata adesso Vi faccio vedere Ho riscattato Ho riscattato quel pacco Esca e rientra Non si rigenera Cosa che invece Succedeva in live Come succede Se vedete Cercare di fare i video Su twitter e tutto quanto Facciate quello Che ho riscattato prima E non c'è più Semplicemente Vai su obiettivi E non c'è sta Il pacchettino Il pacchettino Che è stato Riscattato da me In precedenza Già quello di Diogo Iota Questo qua è il pick Questo deboca Che ho riscattato Me lo dà come preso Insomma Quindi L'hanno patchato Però ci hanno messo Un po' troppo Cioè fino alle nove Del mattino Andava Tutto ciò ragazzi Vi do un bacione Ci vediamo come un saluto Su twitch Oggi giornata toti E ciao